Ciao ragazzi, grazie a questo nuovo video-vlog A dopo Non so neanche se mi basta la batteria Ok, raga Boh, cioè per ora, speriamo Cioè mi basti, sono 88 metri Sì, dai Sì Sì che mi basta Nel caso che un punto di prima vlog Eeeh, a dopo Sen interferenza, raga Bruffo Eeeh Guarda Certo Saluta Salta in aria Bella idea Andate a fare la notte di anno Siamo a un minuto qui Allora, non lo sapete il mio ordine My ordine Adol Per forza l'ho dovuta ridare Cos'era l'anno prossimo Ti farà star giù un po' di più in piedi Eh no no No, no 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 Noi, niente Madonna Madonna Io ne ti sto una volta, mi passano a me Sì, nessuno è dietro Guarda E dopo Cos'era Guarda 軍 Guarda 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 La mia ripresa. Ma quando ha fatto l'ultimo intervento non è più la manuela di Sina. Ma se il pane non lascia anche per me ma non è più capire. La mia nera, la mia nera, la mia nera. La mia nera, la mia nera. Ma si è riuscito in Stroy e ha portato il pano fuori e il paese esame. come ecco? e la ricerca che vada non troppo di coglioni ecco come ecco? ecco come è il senso che è il tuo box io le ragazze e la mia tupina io non amo piano bella bella Grazie a tutti. 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 Oh my gosh, fucking gay. Non è un cane, voglio dire. Non so, Torres. Punto Torres. Ma cosa sta facendo? Tutto Torres. La precisione non è un'opinione. Grazie a tutti. La mia classe. Grazie a tutti. La cucca. La cucca diversa. 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 come si è fiavato? come si vuole? come si vuole? la guerra la è con la guerra come si vuole? che vuole? non no 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 non c'è il l'aira l'u... che è fiavato prima che è fiavato che è fiavato ma la bella così ragioniamo i corpi da due lo c'è detto però qua la teniamo da due, da due, da tre puoi dire che è milione ah io no, non lo so quello da due te lo hai lasciato? a sette, niente c'era questa, c'era questa già erano almeno 12 minuti noni che euro? no lui, lei almeno non lo so non lo so quanta euro? non lo so ma se finisce il primo deve avere quando? io ho teatro gallega e mia foca non fa una cosa ma mia buia ha tanzato ai miei tutti i capelli ah, la gara è vero due santo e 50 euro con pelle è 2 euro anche molte passate è un'altra bene che carne ha comes decano a dei pezzi per i bambini a dei pezzi a delle 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 pezzi con delle pezzi al g allez a delle pezzi a delle pezzi Ma dimmi, stiamo andando orvole? Tu hai il palantì? Tu hai il palantì? 50 euro? 15 euro a me C'è un giulino e non è apro questo amore? Andiamo che... C'è un giulino e non è apro questo amore? C'è un giulino e non è apro questo amore Non hai notato ieri sera? No, ma l'ha sandro dopo Adesso? 11 siamo? Noi 11 Mamma mia la presa, la erba Siamo insieme a roca? Siamo insieme a roca Ti prego D'aglio Ma non potete vedere il salo? No, non è vero Sì, pit过 No, si c'è voi salta Lo mio salta Anda dovuti darle a f exami Nrania la granna che non puoi neanche, non puoi neanche, non puoi neanche, te vassi prenderla sul fatto, l'esetica dice romano, metti una telecamera Raga, io concludo il gameplay, ci sentiamo, ancora un altro vlog, un altro video, passate un video, ciao